Two, one, live. Eccoci Mauro, puntualissimo e devi sapere che di solito c'è sempre qualche problema. Ti colleghi e inizi mezz'ora a dire, senti l'audio, no, e l'altro non sente, non vede, la camera buio, l'altro che non si intercette, invece con te è perfetto, tac, è arrivato, collegato, tutto pronto. Qualche volta si può sbagliare, anche migliorando, sì. Dove sei? In che parte del mondo sei? Sono a Milano, in Piazza Duomo, dove abbiamo gli uffici e non sono tanto abituato a andare sotto telecamere, però dai, oggi con te vediamo cosa e dove posso... Ma ti ringrazio, Mauro, invece ti ringrazio per la disponibilità perché, non so, avrò chiacchierato con quattro persone diverse, non cito mai le fonti come i giornalisti, io non sono giornalisti, ma insomma i giornalisti investigativi che mai citano la fonte, però non posso citare la fonte, ma quattro persone diverse, quando ho chiesto, periodicamente chiedo, ma con chi faresti quattro chiacchiere, insomma, per il mio format, e quattro persone completamente diverse mi hanno detto, vabbè, Mauro Tiberti l'ha già intervistato tutti e quattro, dico, no, non so, non conosco, come, non hanno ancora interessato, ma ragazzi, allora ci parlo, allora ci parlo, e quindi insomma, godi di grande stima e rispetto, insomma, in vari campi e questo secondo me è molto interessante. Per chi però non ti conoscesse o come me non ti conosceva prima di approfondire, che cosa fai nella vita, quando uno dice, che mestiere fa il papà, o chiedono i figli, che cosa fai? Allora, il mestiere che faccio è, diciamo che è quello di riuscire a fare l'imprenditore nel modo corretto, perché poi alla fine non si nasce mai imprenditori, non si nasce mai manager, non si nasce, cioè, si parte, sono partito quando avevo 15 anni a lavorare, perché gli studi non mi, non mi, non mi davano e non mi piacevano, però con tutto rispetto allo studio, perché oggi magari ci vorrebbe anche qualcosa in più, anche su quello, anche perché sicuramente lo studio da tanto, da lì ho cominciato a lavorare, un po' come dipendente fino a una certa età, che era poi quella del ritornare dal militare, e da lì, quando sono trovato il militare, ho cominciato a fare il panettiere, e da lì è partita la mia vita imprenditoriale. Wow, è un salto cosmico da interrompere gli studi, in sostanza immagino, non hai fatto l'università o... Io ho fatto la prima elementare, e poi ho fatto la prima media, e in seconda media ho chiesto ai miei genitori di non poter più continuare con la scuola e di poter lavorare, perché non mi trovavo bene in classe, a scuola, facevo fatica a applicarmi, e ho capito che potevo e buttavo via una cosa preziosa, e allora mi meritavo di andare a lavorare piuttosto che continuare gli studi. Caspita, caspita, e poi hai iniziato a fare il panettiere, e diciamo, non so quante storie esistano di persone che hanno iniziato magari a fare un'attività molto pratica, operativa, no? Può essere il panettiere, può essere qualunque tipo di altra attività, però poi passare a creare un'azienda è proprio un mestiere completamente diverso, no? Perché puoi essere un bravissimo panettiere, ma non hai la più pallida idea di come poi si coordinano persone, si organizzano le attività, si trovano dei negozi, si trovano fondi per investire, cioè è proprio un altro mestiere. Come hai fatto questo passaggio? Per quanto tempo hai fatto il panettiere, tra parentesi? Il panettiere l'ho fatto dal 91, diciamo fisicamente, ho smesso nel 2008. Wow, ok, quindi hai fatto il panettiere per un sacco di giorni, ogni notte, poi andando anche in giro a proporre quello che producevo, in più aprire poi i negozi, perché poi è tutto un percorso che è nato, naturalmente è un percorso anche impegnativo, perché comunque lavorare la notte, i sacrifici, oggi i miei colleghi che lo fanno ancora li voglio salutare perché sono dei ragazzi che è un impegno enorme e con grandi sacrifici. Forse anche quello che poi, non lo so, in questi anni mi ha permesso di dare un grande valore al lavoro notturno e che quello portandolo di giorno è una grande opportunità che ho avuto e oggi lavorando, lavorare di giorno è già un grande risultato che mi è stato dato alla fine. Incredibile, sai che non mi sono mai posto neanche la domanda del lavorare di giorno, lavorare di notte, cioè per me è sempre stato normale, sì, tranne dei periodi dove magari stavi su tutta la notte a fare un'urgenza, un'attività, però come dire era uno strascico e un momento temporaneo. È veramente una cosa, ti isoli, sei solo, parli con te stesso, non hai rapporti, si perde tanto e si può anche avere tanto, ma perdi tantissimo. Sicuramente chi lavora di notte oggi è una fatica, non è indifferente, certo. Sicuramente enorme e poi cambia completamente il tuo ritmo. Come è stato il passaggio, o quando è che ti è venuta l'idea di dire ok faccio il panettiere ma adesso apro un mio negozio e magari posso anche aprirne più di uno, magari potrei allargarmi al posto di stare a fare solo il mio, che magari è il percorso che seguono la maggior parte delle persone, diciamo ok o lavoro per qualcuno o magari apro il mio negozio e poi mi fermo lì, ecco non è che voglio creare una catena. Diciamo che sono state tante le motivazioni e poi forse anche un po' di fortuna, un po' di bravura, un po' di incoscienza perché tanta incoscienza c'è stata sicuramente praticamente nel mio percorso. Diciamo che ho cominciato a capire di poter non vendere solo nei suoi mercati e non vendere solo agli ospedali, tutto quello che producevo, dove potevano diciamo consumare pane o dolci, pizze, tutto quello che poteva essere quel mondo, diciamo che da lì ho cominciato a capirlo che andare da un buyer, raccontare di poter vendere il tuo prodotto, poi cambiare, il buyer cambia di una catena, tu esci e non vendi più. Tutto quel mondo lì che continuava sicuramente a soffocarmi perché comunque tu dipendi sempre dal tuo cliente e da lì è nata l'opportunità di poter aprire un negozio nel 1996. Nel 1996 ho aperto il primo negozio e ho visto che praticamente si poteva vendere il pane direttamente, i dolci direttamente al pubblico e da lì ho capito che vendendolo direttamente non dovevo più poi andare a propormi perché quello che producevo lo vendevo nel nostro punto vendita. Da lì ho capito, poi mi sono stato fermo tanti anni. Scusa Mauro, scusa se ti interrompo, il primo negozio l'hai aperto a Milano? No, il primo negozio io praticamente sono nativo in un paesino piccolo della Valle Camonica dove da lì ho cominciato, un paese di mille persone, dove ho cominciato con questo piccolo laboratorio di pane e poi mi sono trasferito verso una zona vicino a 30 chilometri che aveva 10-15 mila abitanti, da lì ho aperto il primo negozio e poi mi sono trasferito a Brescia e ho cominciato a aprire altri negozi e poi dopo da Brescia a Bergamo, Bergamo a Milano e poi dopo Roma come oggi siamo un po' in tutta Italia. Ok, ok e adesso mi sembra che siete a un centinaio, un numero del genere. Sì sì sì, quest'anno facciamo 30 aperture e superiamo le 100 e vendiamo quello che oggi è ODS, un po' di tutto, vendiamo anche emozioni, vendiamo sogni, chi entra nei nostri negozi trova una varietà assurda di tutto quello che oggi non si trova poi in giro. Per me Mauro che vivo nel digitale e le start-up che ho fatto piccole, insomma a seconda delle start-up però sono sempre state legate a un mondo digitale dove non c'è l'oggetto fisico, quindi fai una rete di blog di informazione, magari fai appunto 3 milioni di persone che ti vengono a visitare ogni mese però non c'è un prodotto fisico, non c'è una supply chain dei fornitori, degli oggetti da spostare, dei magazzetti, non c'è niente. Per me anche aprire un negozio solo è fantascienza, cioè a me è un negozio fisico, penso ma come si fa ad aprire un negozio fisico? Ecco quindi magari c'è qualcuno là fuori come me, se uno vuole aprire un negozio fisico oggi in Italia, che suggerimento daresti? Nel senso che aprirlo è un percorso... I termessi, le cose, non so. Allora si parte praticamente da una contrattazione con il proprietario dell'immobile dove tu vai a chiedere e dici ho bisogno di aprire una mia attività, mi piacerebbe il suo immobile, da lì parte una contrattazione di affitti dove lui ti chiede 5 mila al mese, tu gli proponi 3 mila, fatti una trattativa, anche perché i costi fissi sono importanti anche per la tua gestione, perché avere un immobile che paghi l'affitto e in automatico poi non riesci a sostenertelo perché hai magari pensato che potevi farcela o viceversa, l'affitto ti va a incidere troppo sul canone, sul tuo incasso, lì già parti male. Poi da lì... Aspetta Mauro, ma fai un passo indietro, la zona come la scegli? La zona la scegli in base un po' a quello che vado a vendere, cioè se io oggi voglio vendere in centro città perché il mio prodotto deve essere venduto più in centro città, vado a vedere delle posizioni in centro città, se devo vendere di più nelle stazioni, vado a cercare in base a quello che uno vuole vendere, cerca la sua posizione migliore in base alla clientela che passa in quella zona o viceversa, se è un negozio di quartiere, non è un negozio di quartiere, se è un negozio per turisti, se è un negozio che va bene nelle stazioni perché c'è un passaggio che poi non si vede più, cioè dipende da qualsiasi... Ognuno poi in base al suo prodotto sceglie e così. Oggi noi andiamo da tutte le parti perché lavoriamo sia in centro città, più che nelle stazioni, piuttosto che nei centri commerciali, noi oggi andiamo dappertutto, dunque non ci poniamo più il problema. Da lì poi parte una trattazione sul canone, uno in base a quello che pensa di fare decide se il suo canone è congruo o meno congruo. E quanto, a livello di dimensioni, immagino all'inizio magari erano dimensioni più piccoline e adesso magari hai bisogno di dimensioni più grandi oppure no? Come funziona? Ma sicuramente in base a quello che tu, nella posizione o dove vuoi andare a vendere, decidi la dimensione. Naturalmente anch'io sono partito con i piccoli, piccoli negozi e poi piano piano mi sono anche, sono andato a diventare un category killer sul dolciario e oggi abbiamo 4.000, 5.000 articoli e praticamente abbiamo bisogno di più spazi per cercare di fare un effetto wow. E da lì nascono le dimensioni poi dei punti venti. Noi oggi partiamo dai 200 metri fino ad arrivare ai 1.200 metri quadri dove andiamo a esasperare con il nostro prodotto alla fine. Diciamo che, se vuoi che ti racconti una cosa bellissima, sono un negozio che per il mio primo negozio in una grande città come Milano, ti faccio un piccolo, vedo questa posizione, faccio questo numero di telefono che c'è fuori, chiamo e da lì nasce una trattativa. Questo signore mi dice, io voglio, ti faccio l'esempio, 60.000 euro e gli dico, cavoli 60.000 euro sono tanti però faccio due ragionamenti, guardi la richiamo e la richiamo. Dopo un giorno o due richiamo questa persona e gli dico, guardi, va bene per me i 60.000 euro possono andar bene e lui mi dice, ma mi scusi, ma lei ha capito bene, perché se mi dice che vende dolci, come fa a venire in una città come Milano a vendere dolci e pagare 60.000 euro? gli dico, guardi, la paghiamo anche fuori 60.000 euro? Secondo me ci sono così, ma lei ha capito bene? Io dico, sì, ho capito bene, 60.000 euro. No, ma 60.000 euro al mese? Allora gli dico, per un attimo, mi scusi, ma io 60.000 euro al mese? Cioè, ma lei è sicuro di quello che mi dice lei, non io che le chiedo a lei? Allora, guardi, mi lascia ancora un paio di giorni e cerco di capire. Faccio dei ragionamenti, dico, però entrare in una città o una cosa altra sarebbe importante. Alla fine dico, va bene, a me mi va bene. Da lì faccio il contratto di affitto, cerco di fare un contratto molto veloce in modo che gli dico, guardi, che se le cose non mi vanno bene però me ne vado e apro questo negozio. Ti devo dire che l'apertura è stata il 2 settembre del 2014. Il 2 settembre del 2014 apro questo negozio che era al quindicesimo e nessuno che entra in negozio. Oh, caspita! Apro le 10 di mattina, nessuno che entra in negozio. E gli dico, ho fatto. E' una cazzata. Niente, dopo un'ora, un'ora e mezza, c'era la coda fuori e oggi questo negozio fa circa 2 milioni di persone all'anno che andano a visitare il nostro negozio. e poi dopo circa 5-600 mila persone comprano il prodotto da noi. Però per dirti che quello lì è l'incoscienza, è tutto quello che vuoi di un fornaio che praticamente è arrivato in una grande città per poi fare passi, diciamo che oggi ho fatto passi un po' da gigante e li ho fatti. Ci sono due aspetti che mi sfuggono completamente. Il primo è come fai a organizzare in generale, ecco, come fanno le catene a organizzare tutta la logistica per far sì che, come dire, a scaffali ci siano sempre i prodotti giusti? Cioè, come fai a analizzare tutti i dati del singolo posto per evitare che, come qua in UK adesso con il problema della supply chain, a volte arriva al supermercato e ci sono scaffali vuoti, interamente vuoti, no? Perché ci sono tutti i problemi, logistica, eccetera. Come fai a organizzarlo? Perché sul negozio, vabbè, insomma, abbastanza... Una volta che hai capito più o meno le quantità, dici, vabbè. Però quando inizi a scalare, a quel punto che cos'è? Un magazzino centrale che fornisce tutti i negozi? Come funziona? Allora, oggi diciamo che siamo strutturati con un magazzino di 10.000 metri quadri dove praticamente arriva tutta la merce da tutta l'Europa dove compriamo o anche dall'America in base agli articoli che compriamo arrivano praticamente questi circa... in 10.000 metri quadri arrivano questi 6.000 articoli e da lì praticamente noi gestiamo tutte le consegne. Abbiamo un ufficio acquisti che compra tutti questi articoli, arrivano in logistica, la logistica praticamente riceve gli ordini di 80-100 negozi e praticamente da lì viene smistato un giorno sì e un giorno no, praticamente ai negozi arriva la merce. Diciamo che oggi per arrivare qua sono stati fatti grandi investimenti di tutto questo grande lavoro che in questi 10-15 anni ho messo dentro tutto quello che ho imparato, uno auto e tutto per arrivare oggi ad essere una macchina che è perfetta e non fa fare questi buchi che dici che vedi perché comunque oggi abbiamo veramente il 99% dei prodotti che vogliamo, li abbiamo e i negozi A per B vuol dire che praticamente ordinano oggi, domani gli arriva la merce in tutta Italia, arriva dal nostro magazzino diretto. Tutti i negozi però sono gestiti direttamente da noi, oggi la merce è venduta ai nostri negozi con una formula che i negozi ordinano, viene solo fatturata dal magazzino dal momento che poi viene venduta. Diciamo che il proprietario di tutta la merce è sempre la logistica che è sempre mia in automatico, da lì poi man mano che vende il negozio paga la merce che ha venduto. Dunque tutto il magazzino e tutta la merce che c'è nei negozi è di proprietà diciamo sempre nostra ma del magazzino centrale. Quando viene venduta, viene fatturata ai negozi e i negozi pagano praticamente la merce. Quindi una sorta di conto deposito, una sorta... E se c'è un invenduto, resta negozio, c'è il reso al magazzino? Diciamo che è difficile che ce l'abbiamo perché al massimo scontiamo, andiamo con prezzi competitivi e cerchiamo di dare opportunità ai clienti di poter comprare un prodotto che magari viene venduto sul mercato a 5 euro piuttosto alla fine, prima che arrivi la scadenza, viene venduto a 1 euro, 1 euro 50, 50 centesimi e il cliente diciamo che prende l'opportunità e se lo porta diciamo in casa. E poi se il prodotto gira o non gira, viene sostituito nel tempo, magari c'è un assortimento che cambia magari 3 o 4 mila articoli che vengono sostituiti ogni anno da altri mille perché magari le rotazioni o comunque le tendenze, dal fondente che oggi potrebbe essere in classifica a alto livello magari il latte oggi, ciò fatto al latte che si vende meno, avremo meno assortimento. Assolutamente cambiano in base anche le tendenze un pochettino. Chiaro. Parlavo stamattina con un grande designer che si chiama Denis Deskovic e lui è il designer, ad esempio è stato il designer delle scarpe da calcio Nike, Adidas hai presente le scarpe quelle con una specie di stivaletto, adesso non saprei spiegarlo, insomma che sono scarpe allungate, non come avessero una calza che metti la... sembra un calzino più che una scarpa insomma adesso l'ho descritta malissimo, però è un grande designer. e mi spiegava appunto la sua visione del design e ogni volta che entro in un negozio penso sempre al lavoro anche di... da un lato di design ma di pensiero che c'è dietro perché sia un posto interessante dove stare ma che anche incentivi all'acquisto, il famoso effetto Ikea che entri non riesci più a uscire e qualcosa devi comprare sempre. Come hai affrontato questa parte quando hai cominciato? Era un problema che ti ponevi o diciamo aprivi e insomma... Ma guarda, partendo praticamente da zero per me tutto si è un po' montato nel tempo non ho mai avuto una strategia per fare questo progetto, diciamo che se oggi mi chiedi come sei arrivato qua ti devo dire tanti sacrifici, tanta innovazione, tanta incoscienza tante cose ma non ho mai guardato nessuno, non ho potuto mai guardare nessuno anche perché nessuno è come noi e non potevano guardare neanche i supermercati dunque tutto quello che è arrivato l'ho creato man mano e dirti oggi piano piano, pian pianino questa macchina si è montata e oggi siamo arrivati che Audi Store è quello che è che dà emozioni, dà esperienza, ti fa vedere prodotti che non hai mai visto vengono massificati in un modo esasperato sai è stato ogni giorno un'idea, 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 un nuovo facciamo così, faccio cos'ha, faccio così e oggi ha funzionato fare tutto quello che ho fatto per arrivare qua. Quali sono state le persone chiave di cui ti sei circondato in questo percorso? All'inizio immagino fossi da solo, ok, vabbè, facevi il pane e vabbè Allora, diciamo che ho assunto sempre dei ragazzi giovani che poi non li ho mai chiamati dipendenti perché per me tutti i ragazzi che lavorano con noi oggi, più di mille persone che oggi lavorano nel mio gruppo sono tutti i ragazzi che credono di più di me a quello che io ho fatto perché veramente loro sono una macchina, vogliono fare, vogliono spingere ogni tanto anche mi chiamano e mi dicono ma voglio fare così e così ma no, ma va bene anche a me, no, 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 dobbiamo fare veramente tutti i ragazzi che sono cresciuti con me sono oggi, sono loro nel mio gruppo cioè oggi grazie a loro, ragazzi giovani, per dirti quello che era il magazziniere che oggi è un responsabile, sono tutti ragazzi giovani, non abbiamo ragazzi sotto i 50 anni, non ne abbiamo tutti ragazzi giovani che veramente mettono e credono nel mio progetto ma in quanto penso che oggi li sento e mi adorano, credono in me non gli ho mai chiesto di lavorare un'ora in più, loro vogliono lavorare dieci ore in più sono loro che credono in me e hanno dato tanto e veramente per me è una grande fortuna aver incontrato tutti questi ragazzi Ma c'è stato qualche figura chiave in questo percorso che dice ah, effettivamente quando, non so, ho coinvolto questa persona magari sulla logistica abbiamo fatto un salto di qualità, c'è stato qualche momento chiave da questo punto di vista? Ma ti devo dire che le persone chiave veramente tutti insieme non ho grandi persone che hanno fatto la differenza veramente devo dire che tutti questi ragazzi, oggi anche gli ultimi, coinvolti dai miei creano veramente questa macchina che sta volando posso dare dieci, quindici, venti, trenta nomi ma che a sua volta hanno moltiplicato non c'è qualcuno che ha fatto il collettivo non l'ho fatto io cioè veramente tutti insieme abbiamo dato tanto e oggi i miei ragazzi dicono per me, Mauro, lavorare per te è felicità cioè loro lavorano con felicità veramente io dalle volte dico ma staccate anche un po' se volete andate a casa e loro mi dicono no, no, noi facciamo quello che ci piace fare non faremmo qualcosa in più o in meno se oggi non saremo con te come hai fatto senza avere, diciamo, una formazione e un'istruzione diciamo formale, classica dove dici, non so, hai fatto il liceo, il coso, l'università dove magari hai un'infarinatura su alcuni argomenti, so, economici piuttosto che manageriali, contrattuali insomma, cioè quando studi in teoria adesso sto pensando in teoria perché io ho fatto giurisprudenza ma non mi ricordo assolutamente niente quindi non so quanto poi tutta la scuola che abbia fatto sia stata utile però a prescindere da quello, diciamo, hai un'infarinatura di base, no? una cultura di base, un'istruzione di base come hai fatto a sopperire a quello? nel senso, ti sei autoformato, hai studiato per i fatti tuoi ti sei circondato di professionisti di volta in volta per fare, non so, contratto in locazione e qualcuno deve leggere il contratto per capire, no? che clausel include o meno e via così, no? su tutti gli aspetti come hai affrontato questo? Allora, a dire la verità, non ho proprio affrontato nessun tipo di corso nessun tipo di zero, non ho mai fatto niente e oggi me li sono letti usando quello che avevo da una quinta elementare e sono arrivato qui in questo modo non ho assolutamente fatto nessun corso sicuramente mi manca qualcosa mancherà sicuramente tanto in alcuni aspetti in tante altre cose però diciamo leggere dei contratti mi è sembrato semplice mi sono applicato, li leggevo, vedevo certe cose non andavano in linea a quello che io pensavo le ho corrette, le ho modificate niente, non ho fatto assolutamente mi è arrivato tutto spontaneo non so come... mi arriva tutto spontaneo che invidia Mauro a me viene tutto difficile invece quando qualunque cosa ci sia da fare è sempre complicato, la trovo sempre difficilissima e quindi è bello sapere invece che... perché alcune persone, voglio dire, hanno anche un talento diverso insomma nelle varie attività e quindi questo è un aspetto da considerare il covid immagino sia stata una bella ammazzata anche per voi perché come dire, nel momento in cui uno dice è tutto chiuso a prescindere da tutto insomma immagino faccia fatica abbia fatto fatica a lavorare com'è stato diciamo il momento del covid e adesso immagino invece ci sia stata una piena ripartenza credo in Italia il momento del covid è stato difficile perché io naturalmente ho una macchina che andava a 300 all'ora e mi veniva voglia di fare di tutto perché vedevo che comunque il lavoro andava bene le cose andavano avanti nell'8 marzo quando è cominciato il lockdown veramente mi sono preoccupato ci sono fermati tutti e lì ho avuto un sacco di problemi perché comunque i pagamenti arrivavano e ci siamo dovuti inventare come farci aiutare da banche e da proprietari di immobili dove paghiamo gli affitti devo dire che in gran parte ci ha aiutato ci ha spostato i pagamenti e grazie a loro sono riuscito poi a passare questo periodo dove sicuramente mi è costato 20 milioni di euro e calcolando che 20 milioni di euro per un'attività come la mia nei prossimi anni sicuramente dovremo rientrare di questi debiti e ci stiamo impegnando per far sì che le cose tornano però è stato un periodo immagino anche psicologicamente non sia stato semplice un periodo del genere perché è da tenere insieme tanti pezzi oltre all'esterno hai poi tutte le persone mille persone da tenere comunque è stata dura veramente perché poi io non sono riuscito a non fare cassa integrazione a parte proprio 40 giorni del lockdown ho fatto qualche cassa integrazione ma noi dal 18 maggio 2020 ricordo bene che era un lunedì mattina siamo rientrati tutti al lavoro e da lì forse ho anche sbagliato perché poi non lavorando gli stipendi sono stati netti e forse ho perso anche di più però io volevo ricominciare volevo rivedere il mercato e il mercato non ha risposto così però non ho più lasciato in cassa integrazione nessuno dal 18 maggio 2020 e oggi però sono contento perché veramente questi ragazzi stanno facendo la differenza oggi noi ci stiamo parlando così mentre loro sono a lavorare stanno facendo tutto quello che devono fare e sicuramente riconosceranno anche quello che è stato il mio sforzo un momento delicato come si fa a mettiche chiedo sempre ai miei ospiti queste domande ipotetiche immaginati che prendo un colpo in testa ti chiamo e dico Mauro voglio aprire 100 negozi qua in Inghilterra vado di non lo so di aggeggi per rapparsi i capelli di macchinari per rapparsi i capelli a questo punto tu mi devi consigliare da farsi no? e ok capisco come aprire però mi domando come fai a tenere sotto controllo a coordinare a monitorare 100 negozi che ognuno ha no? è chiaro che hai delle linee guide e tutto quanto però poi ognuno non sai bene che cosa succede nel negozio non puoi stare in 100 negozi che metodo utilizzi? allora sicuramente adesso abbiamo una rete di controllo abbiamo i responsabili abbiamo i capo area che controllano tutto partire da zero oggi sicuramente sarebbe molto più difficile di quando sono partito io perché rimettere insieme una macchina da zero non saprei forse essere più in magari non sono più in grado neanche io però oggi quando hai un'azienda che comunque comincia ad essere strutturata è molto più facile cioè quello che gli altri vedono impossibile tu ti sembra una normalità non vedi più le grandi problematiche come oggi magari non le vede uno che ha questa esperienza diciamo che oggi avendo un know-how importante che ho imparato a gestire tutti questi negozi e poi ho fatto anche altro perché poi sono diventato anche ho aperto anche dei ristoranti di Kentucky Fried Chicken dove mi hanno sicuramente insegnato molto poi oggi abbiamo aperto anche un albergo ho aperto tantissime altre cose dove sto imparando tante altre gestioni e sicuramente tutto questo mi porta a migliorare anche poi o di store sicuramente ogni minuto c'è un problema ogni minuto c'è un problema ma controlli dall'ASL ai NAS la guardia di finanza di tutti i controlli impossibili che possono arrivare anche e dunque tutti i giorni salti da una parte all'altra per capire i problemi cercare di migliorare cercare poi di portare tutto in positivo naturalmente sono uno che guarda molto in positivo non guardo mai il negativo non mi piace mai guardarmi indietro e guardo sempre avanti e hai oggi un gruppo di riporti o di pari insomma di collaboratori stretti con i quali ti interfacce poi loro a loro volta come dire riescono a coordinarti tutta una serie di gruppi di persone come fai a tenere il contatto con i tuoi mille collaboratori il contatto lo tengo perché ogni giorno chiamo praticamente i referenti che ho e dove loro poi a sua volta hanno cascata altri referenti dove loro mi filtrano tutte le problematiche da lì in pochissimo tempo gli dico come risolverlo penso meno di cinque secondi perché gli aiuto subito a risolvere il problema perché se mi allungo a sua volta loro si allungano con i loro ragazzi e non troviamo poi non portiamo l'obiettivo dunque rispondo subito una domanda che mi fanno in cinque secondi mi prendo subito il rischio positivo o negativo e loro poi a sua volta vanno poi se quella risposta che ho dato è negativa cerchiamo di mediarla però assolutamente non li tengo fermi se dovessi dire la tua giornata tipo come si svolge? ad oggi mi alzo al mattino alle due di notte è rimasto l'orario notturno dormo magari da mezzanotte alle due di notte faccio le più bellissime due ore poi mi sveglio tre o quattro ore scrivo messaggi mail leggo tutto quello che devo fare mi riaddormento un paio di ore e poi verso le otto e mezza nove diciamo faccio la partenza e fino alla sera alle nove alle dieci lavoro e diciamo principalmente sono incontri sono call sono telefonate sono dove spesso giro negozi poi sto tanto in ufficio in ufficio poi qualche video call ma pochissime perché non mi trovo faccio fatica telefonate e incontri che mi vedo dal vivo diciamo con le persone dico cosa come penso cosa voglio fare poi magari vedo dei negozi dico di portarli a fare in questo modo i ragazzi li trasformano dove poi magari vedo delle cose che non ritengo giuste intervengo però diciamo che sono ancora abbastanza veloce con la struttura che abbiamo dunque siamo ancora veloce se diciamo oggi di fare una cosa dopo un'ora è fatta ok quando entri in un negozio quali sono le prime cose che osservi per capire se le cose funzionano o non funzionano allora ti devo dire che qua mi dicono tutti che c'è qualcosa di strano io quando entro vedo solo le cose negative non vedo il positivo le cose che vedo sono quelle che non vanno bene dunque in un attimo esco dal negozio e ho filtrato le dieci cose che non andavano bene dunque è molto facile fammi un esempio ma che cosa osservi perché se io entro in un negozio non noto niente non so neanche dove guardare in qualsiasi negozio che sia mio che siano della concorrenza di abbigliamento di food tutto quello che potrebbe essere quando entro vedo le cose che non vanno tipo non so vedo magari il personale che non serve nel modo corretto vedo che magari hanno una maglia stropicciata vedo che magari non sono ordinati o viceversa vedo la merce sposta male vedo la merce disordinata vedo lo sporco sotto un scaffale non vedo le cose positive dunque io non devo guardare niente cioè io entro e quando esco ho in testa le dieci cose le scrivo via mail e mentre sto camminando la mail parte mi fa morire Mauro come sentirti parlare è semplice però poi farlo non è così facile insomma ecco questa è la differenza concordo sul fatto che diciamo noi imprenditori piccoli o grandi persone intraprendenti le persone intraprendenti in genere sono sempre tendenzialmente ottimiste perché sennò non faresti mai niente non lanceresti mai nessun progetto nella tua vita però siamo in una situazione oggettivamente insomma che non è la miglior situazione della storia io ti faccio l'esempio qua in UK abbiamo avuto Brexit Covid due anni guerra in Ucraina inflazione al 10% non lo so manca solo l'abominevole uomo delle levi che quando esco mi da una legnata in testa e ce le ho tutte e uno dice vabbè figata dai che lancio la mia nonna startup però come affronti situazioni così diciamo gli inverni dell'economia ti dico vado avanti guardo avanti e sinceramente se oggi veramente ci mettiamo a guardare tutto quello che hai raccontato e quello che oggi è il nostro paese io e i nostri paesi non ne usciamo io se mi dici cosa sta succedendo oggi e quello che raccontano al telegiornale penso che è un mese che non accendo la tv cioè vado avanti per la mia strada cerco di vivere il mio sogno e che ho avuto questa opportunità da un paesino di 300 persone arrivare a fare quello che ho fatto me lo godo e guardo in positivo cerco di aiutare quello che posso fare anche magari aziendalmente le persone che oggi stiamo aiutando seguiamo magari dei centri bambini malati di slice ma guardo avanti cerco di fare qualcosa in positivo per gli altri e cerco di non i miei si arrabbino i miei che guardano i numeri si arrabbino perché mi dicono ma tu non vuoi mai guadagnare ma tu non vuoi guardare mai se noi abbiamo se tu hai guadagnato no io gli ho detto io voglio cercare di pagare tutti tutti e che se avanza un centesimo per me per me va bene e se non l'avanza ma andiamo anche a pari è già buono e i miei mi dicono Mauro ma allora vai a fare il dipendente perché se la vedi così oggi prima della nostra video call mi hanno detto Mauro però guarda che dobbiamo guardare i numeri intanto hanno detto no io se guardo i numeri non sto bene dunque non la fammeli guardare so che andiamo bene so che paghiamo tutti e pian pianino arriveranno i risultati però guardo molto in positivo non guardo indietro se guardiamo stiamo solo male non facciamo i nostri sogni si spengono e alla fine cosa abbiamo fatto e allora io voglio guardare avanti se dovessi dire una caratteristica tua diciamo a parte magari una una capacità anche naturale di intraprendere però se dovessi dire una caratteristica che ti è tornata utile per ottenere dei risultati in questi anni quale caratteristica diresti la costanza io sono uno che quando veramente oggi ancora nella mia azienda che non riesco a far cadere una penna che l'ho già raccolta non esiste costanza continuare a credere in quello che fai e non mollare penso che sia il mio il tuo punto di forza una tua caratteristica che cosa ho detto l'ho portato a termine su cosa sei concentrato adesso per chiudere questa chiacchierata i progetti futuri particolari in corso aprire altri centri che su cosa stai lavorando peraltro si può dire il nome dell'albergo dov'è un albergo in piazza duomo praticamente è un albergo che si chiama odysuit è un albergo a tema è l'albergo alle camere marshmallow e cioccolato e ho fatto questo albergo per far crescere il mio brand e per far vivere anche delle emozioni ai clienti che vengono e che sono innamorati di dolci caramelle e dentro in un albergo trovano tutto quello che non posso pensierare questo è l'albergo il nome dell'albergo che non ho sentito? odysuit hotel ah odysuit odysuit per cui albergo e dei suoi e suite come camera e sei quindi diciamo progetti futuri su cui sei concentrato? allora progetti futuri sono concentrato nel 2020 in pandemia ho avuto una crisi morale fatto pare anche mia mi sono alzato con un sogno che volevo aiutare le persone ho creato un social un nuovo social che si chiama New Life sono molto concentrato su questo social è un social che praticamente ha una voglia di far del bene io avevo voglia in quel momento di aiutare le persone il social New Life praticamente ha una funzione che si chiama Elmi dove all'interno puoi praticamente dare un aiuto e ricevere aiuti ah ok ed è già attivo è già funzionato? da un mese è attiva dopo due anni di progetto è attiva e New Life a oggi sta entrando sono entrando tante persone e sono contento grande Mauro mi hai stupito su molte molte risposte molte attività e quindi me la riguarderò con attenzione e con calma questa chiacchierata penso ci sia molto da da imparare da notare rispetto a quella che è la tua storia e anche quello che è il tuo atteggiamento nei confronti dell'azienda e in boccalo poi per tutto allora e alla prima occasione a Milano ci incrociamo se passi qua da Brighton se apri un ODS a Brighton